ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con l'indisi in scatolamento di kraken attack un gioco della casa editrice loki come vedete è un campione demo che mi ha inviato manca lamaro che si occupa della localizzazione italiana è un gioco adatto dai sette anni di età ne sono autori esteban e antoine bausà l'ha illustrato beat hours come si vede già da questa finestrella c'è una meravigliosa statuina di un di un kraken andiamo a cercare le altre icone dei giochi da tavolo eccole qui 14 giocatori 25 minuti la durata stimata ecco qui come si presenta il gioco c'è una nave pirata al centro dei tentacoli di due colori che la vinghiano e un kraken che si avvicina minaccioso usando dei dadi carte azione dei giocatori ecco qui il testo italiano tutti uniti contro il kraken pirati ai posti di combattimento sguainate le sciamole e caricate i cannoni e le pistole il terrificante kraken sta per attaccare usate le vostre abilità speciali per respingere i tentacoli prima che affondino la nave la collaborazione e l'ingegno sono gli elementi chiave per vincere questa battaglia epica contenuto un tabellone della nave un percorso del kraken una statuetta di kraken 8 statuette tentacolo 40 carte azione 4 carte aiuto giocatore 6 dadi kraken 4 pedine pirata 8 parapetti 4 gettoni falla 3 gettoni attacco kraken 4 gettoni vortice un regolamento la scatola come c'è una coppia di demo è già aperta una shelf per cui vi evitate la mia stagliuzzata col taglierino andiamo a vedere il contenuto allora intanto c'è un inserto sagomato qui vediamo subito quella che penso sarà una degna protagonista delle partite la statuina del kraken molto carina plastica rossa e blu con i suoi dettagli qui abbiamo i quattro alloggiamenti per le pedine sono queste quattro pirati ognuno alle sue capacità c'è quello più bravo coi cannoni che occhio è questo quello più bravo con le pistole che occhio è questo poi c'è quello bravo nascondersi e quella veloce qui abbiamo i tentacoli del kraken sono otto di due colori diversi come anche di due colori sono i dadi i dadi riportano o dei vuoti o dei risultati che sono le corsie su cui avanzano i tentacoli oppure l'occhio del kraken che vale per tutti vale per tutti i tentacoli sono dadi da 18 mm quindi cosa abbiamo? i parapetti della nave ecco ne uno l'interno l'esterno questo protegge la nave al primo attacco del tentacolo una volta distrutto il tentacolo può fare le falle alla nave qui abbiamo le carte azione e le carte aiuto del giocatore sono dieci per personaggio sono diverse se riesco ad aprirle magari ve le faccio anche vedere eccoci ok questa è la carta aiuto fase dadi muove i tentacoli fase azione si cerca di contrastare se sulla carta usata c'è un pirata che fa la smorfia si muove anche il kraken sul suo tracciato qui è quando il kraken è arrivato sulla nave e anche lui aiuta a distruggere la nave ecco qui diamo dieci carte azione questo personaggio questo è quello più bravo con i cannoni qui vediamo le sue azioni di iconografia la bandiera jolly fa sceglie quello che vuole poi ci sono le azioni per spostarsi per sparare col cannone per dare colpi di sciavola per sparare con la pistola e per riparare la nave da qualche parte forse non è lui eccola qua il martello per riparare la nave se c'è la smorfietta qua sotto credo sia questa sì il kraken si infuria e si avvicina si avvicina alle nave questo è un personaggio qui abbiamo l'altro per lui non vale il dado con l'occhio del kraken è la sua peculiarità poi le azioni sono le stesse probabilmente distribuite in modo diverso sono le stesse tipologie per tutti ecco qui la smorfia che fa infuriare il kraken qui abbiamo lei brava con le pistole e questa è la sua smorfia e infine abbiamo lei che è quella più veloce può fare azioni doppie che lei ha la smorfia eccola qui bene manca tutta la parte di cartone che probabilmente è sotto un sarto eccola qui regolamento il tabellone della nave qui è qui dove vengono montati i parapetti e qui dove vengono montati i tentacoli la configurazione iniziali la configurazione iniziale c'è sicuramente dentro il regolamento pagina 25 l'italiano eccola qui ecco la configurazione iniziale ecco la configurazione iniziale vabbè ho sbagliato l'auto i rossi hanno dall'altra parte questa è la configurazione iniziale e a seconda del risultato del dado allora questo pesce è questo quindi se esce questo dado si muove questo tentacolo poi abbiamo la stella quindi si muove questo qui abbiamo la medusa si muove questo e qui sotto abbiamo il granchietto pauro si muove questo un risultato è vuoto e un altro all'occhio del crack che fa muovere fa muovere tutto queste sono le zone su cui agiscono le armi la sciabola la pistola un po' più digittata il cannone più di tutti e queste sono le quattro aree della nave sono quattro caselle su cui possono stare i personaggi e poi c'è vabbè qui sotto questo è il percorso del kraken che va messo in punta di nave e su cui si muoverà la statuina ok i dadi andranno inizialmente posizionati qui due viola due rossi e ne rimarranno liberi un viola e un rosso che vuol dire che inizialmente i giocatori tirano da qualche parte c'è l'altro dado prima c'era inizialmente i giocatori tirano i due dadi che avanzano eccolo qua a mano a mano che le smorfie faranno infuriare il kraken che procederà sul suo cammino questi dadi verranno aggiunti a quelli che devono tirare i pirati e causando sempre più movimento tra i tentacoli perché ovviamente i risultati peggiorano nel momento in cui il kraken finisce il suo percorso sale in nave e attaccherà attaccherà la nave al posto di uno dei tentacoli se riesce a fare quattro falle che sono queste se riesce a fare quattro falle il kraken ha vinto se invece i pirati riescono a colpire per tre volte il kraken sono i pirati ad aver vinto la partita bene non ci resta che provare il gioco un numero sufficiente di volte per poi recensirlo su giochi sul nostro tavolo grazie a tutti